Vabbè domenica è chiaro che per me è una partita emozionante, sono andato a Teramo, ho giocato cinque anni a Teramo, quindi non è una partita come l'altra, è una partita per me importante, una partita bella, che però giocheremo col coltello Fredenti, anche perché è un derby, il colchiero è sentito, quindi speriamo di regalare una gioia ai nostri tifosi. Sì, sarà una partita difficile perché incontriamo un Teramo in grande condizione, viene da tre vittori di fila, noi stiamo facendo delle ottime prestazioni e speriamo, come detto, che lo stadio sarà sicuramente pieno, quindi di regalare una gioia ai nostri tifosi perché è una partita che loro ci tengono tantissimo.